L'Archi ma io ho messo, ho messo tutti i cosi, ho messo tutti i semi qui, ho piantato. Ci sono anche i soldi? No. Ma non credo. Chi è Matt Souce? Chi? Noi se la possiamo fare qua. Matt Souce. Dove l'hai visto? Su Facebook il canale di Ansegno. Ah, sarà uno di quelli che aiutano a fare il libro. Io la farei qua, Dico. Ma anche un po' più lontana dalla città. In ogni caso dobbiamo buttare giù gli alberi per farla. Qui su questo promontorio? Dobbiamo buttare giù gli alberi, lo faccio io. Sì, si dovrebbe fare qua. Attenzione, attenzione, non ti avvicinate a Ansegno, c'è una bestia. C'è una bestia e vuoi uccidere. Ah, non ce l'ho niente, lo spragli. Vabbè, lo metto qui allora. Alla a destra. Ma corre la bestia, sì. Sì. Ok, lo metto qui allora. Dai, prova a metterlo qua, così vediamo. Claim. Tra l'altro poi, esatto, se fai claim, non mi ricordo. Posso farlo anch'io? Sì, bisogna farlo, che ciascuno lo faccia. In verità me non lo fa, credo. Forse perché ce l'ho già da qualche altra parte. No, a me non lo fa fare. Vabbè. Ah, cazzo, io sto a morire di fame. Eh, anche io sono messo male. Io ho 24% di sete. In questa città qua non c'è niente da mangiare, avete già guardato? Sì, ci stanno i semi che ho piantato. Che sta mangiando? Ci mettono circa un giorno, visto, per crescere.